L'importante è che non fai Babbo Natale, non fare Babbo Natale. Sto facendo la foresta, ti sembra una foresta, la foresta di serie di Natale. Guarda che si muove la foresta, si muove la foresta perché dalla foresta esce Begolino! Begolino TV, grande grande momento. Sera di Natale, guarda che è sporcato! Benvenuti io! Chi l'ha portata? Benvenuti amici di Begolino TV! Vieni un po' più sotto perché se no non ci sei ragione! E io ci casco tutti i giorni! Sigla di Begolino TV, benvenuti da Gualdi e Sandro! Chi è che ti amo? Non parte la sigla! Adesso la faccio partire! Eccolo qua, questo è Begolino TV, attenzione! C'è nessuno? Beh, per favore ci sono i fantasmi in questa radio, tanto vado così, solo per veri Begolini! Tra l'altro, scusate, oggi abbiamo un incontro! Begolino incontra Begolone! Fai entrare Begolone perché... Begolone è stata una sorpresa veramente dell'ultima ora, ma meravigliosa, perché potrebbe arrivare da qualsiasi posizione... Oh, la miseria! Questo è grosso! Begolone così... No, no! Sono amici! Ah, sono amici! Begolone! Ecco, questo arriva da un ascoltatore che noi... Sta annasando il video! Sì, sta annasando perché è curioso, è appena arrivato! Ah, è curioso! Dice che cos'è? Un ascoltatore che ce l'ha portato da parte di sua figlia Sara, lui si chiama Giorgio, mamma Silvia, ci scrivono una letterina veramente molto bella, questo ci fa davvero piacere, stiamo... Vi chiamiamo un presente... Sì, però, scusate, Begolino, però devi star fermo perché se tu... Si impalla la cosa, la visione e il filmato, vai! Dici, vi chiamiamo un presente pensando voi in una veste nuova e allungata, ecco noi avremo bisogno di allungare alcune cose ma non stiamo lì a entrare. Sempre con il mio bel colore e con il mio sorriso stampato sulle labbra. Stando con voi, questo è bello, stando con voi e ascoltando tutti i giorni, non mi annoio mai, anzi, il tempo sembra che passi molto più veloce. Ecco, ci fa molto piacere. Perfetto! Ma la se che suoni, che tanto non ha importanza così, intanto questo è Begolone, ecco Begolone che fra l'altro stamattina in pratica si era messo sulla mia testa. Ecco, tienilo lì così sta buono, tranquillo, che si aggrappa. Ecco, la testa canta, senti che c'è il vuoto nella testa e quindi fa questa roba. Si trova a suo agio. Che cos'ho in mano qua? Al contrario, eccola qui, la magliettina di Noi Con Voi, guarda, hashtag Noi Con Voi, eccola qui. Perché? Perché continua in questo periodo più che mai, a chi dona 10 euro pro terremoto nel centro Italia, Radio Bruno regala la magliettina, la t-shirt, eccola qui, bell'incelofanata, la vedete, noi con voi. Come funziona? Funzione che voi potete chiamare anche adesso, lo 059 64 14 30, orario ufficio, chiedere informazioni oppure tutto su radiobruno.it. Altra grande iniziativa di Natale, la nostra canzone, questa per chiudere in bellezza, si fa per dire, la canzone Natale insieme, che è un progetto bene, sentiamola, sentiamola, vai. Sì, mentre va la canzone però ricordiamo che stamattina abbiamo avuto Valeria, no? Valeria, la nostra ospite, la nostra parente che è venuta a trovarci e con i bambini sta preparando la festa di Natale a scuola perché lei è un'insegnante di scuola dell'infanzia e quindi i bambini dai 2 ai 5 anni e con i genitori stanno provando le canzoni di Mengoni. come diceva, Mengoni non ha fatto un album di Natale, infatti fanno un'altra roba, però è bella, è bella, è bella, è bella, ma ci sta tutto, come ci sta il begolino, ci sta il begolone e ci sta la canzone di... Dai, sentiamola, sentiamola, vai, vai, vai. Questo è Antonio Valli, che sembra gli zero assoluto con Clarissa Martinelli, si chiama cantano. Bello, perché non sono dipendenti del zero assoluto appunto. Cantano sottovoce, cantano? Sì. Questa è la Carri, questa è Clarissa. Sì, sì, sì. Barbara Pinotti insieme a Marco Marini. Che bella copia che fanno insieme, si, si, si. Vi direi poi di fermarci quando ci siamo io e te, perché il resto non ha importanza. Sì, arriviamo tra poco, quindi stoppalo. Sì, attenzione che sono qua, faccio un momento di pausa. Mario Ribanschi, il nostro DJ. Alessandro Brandi, ecco, che arriviamo, attenzione. Sì. Questo sono io, eh. Mazza che schifo. Qui arrivo io, arrivo io, top. Che bravo. Ma come canti male, cacchio. Che bravo. Perché la canzone? Non tanto perché da ascoltare è piacevole, comunque è molto carina, ma è legata anche a questo, è un progetto importante insieme ad Ageop. Quindi voi ascoltate la canzone, la scaricate legalmente dai digital store 99 centesimi che andranno tutti ad Ageop. Grazie ragazzi, il Begolino TV si chiude qua con il Begolone nuovo ospite. Grazie, ciao!